Dal teatro psichiatrico Rock'n'Roll di Milano va ora in onda la grande truffa di Mike Live Show Con luce al Crazy Team Con luce al Crazy Team Grazie mille Ci applaudete anche se non sapete cosa stiamo per fare ma non lo sappiamo neanche noi Comunque un applauso ancora un applauso dai su carichi Un applauso alla grande truffa di Mike Live Show è lunedì lo so è difficile È una giornata difficile è la terza volta che la facciamo live E di solito forse non c'è due senza tre Allora ci presentiamo Allora Tato Poi noi siamo in tanti abbiamo un regista un vero regista Paolo Mauro il nostro regista Ciao a tutti Poi abbiamo l'uomo che gestisce il rapporto con i social media Con i social network E non solo con loro No lui è l'uomo che gestisce anche l'odio Lui è cattivo Il nostro diattolo che odia è lui Luca di Hater Corbetta Andate a fa C'è un messaggio caro Luca da casa Sì ce ne c'è uno Carlo grazie ragazzi da quando vi seguo la mia vita mi fa meno schifo Eh beh meno male Ma c'è un perché anche Ma poi non siamo soli C'è anche colui che viene da un aperitivo Allora la gentile è di farsi anche più vicino Almeno facciamo gruppo Se state lì sembra che state per andare via Invece se li mettete qua davanti Almeno niente stanno lì Anche perché uno è cattivo No pare che vogliano andare via veramente Sì infatti Angelo Tieni di farli salire Comunque abbiamo il giullare di corte No Perché? Il giullare di corte nel senso buono Siamo in tre Arriva da una peccata Grazie a tutti